Tortorici ha festeggiato il patrono San Sebastiano Martire quest'anno con una novità tecnologica. Per la prima volta infatti nella storia della festa, sul sito istituzionale del Comune di Tortorici, sono state trasmesse in streaming il Vespro e la Messa Solenne delle Undici, ufficiata dal Vescovo Ignazio Zambito. Un'iniziativa questa accolta favorevolmente anche dall'arciprete Giuseppe Calabrese e dai numerosissimi oricensi sparsi per il mondo. È una bella novità preparata dagli impiegati del Comune che hanno permesso le riprese della festa, anche la Messa di Cesare alle Undici, e trasmetterla in tutto il mondo, così se ci sono i cittadini e i tortorici che stanno in tante parti del mondo, possono avere la possibilità di rivedere la festa che hanno visto dai piccoli, di quando erano qua e poi sono dovuti andare via. La festa di San Sebastiano, nonostante il vento e qualche sporadica pioggia, si è svolta nel rispetto della tradizione. Alle 10.30 dal municipio è partito il corteo del Senato che, giunto nella Chiesa Madre, ha consegnato la chiave della città al suo santo patrono. Anche questa è una bella tradizione, nel senso di un rapporto di collaborazione fra l'Istituto Comune, lo Stato e quindi il Sindaco e la Chiesa, che sono due perni fondamentali del vivere civile. E quest'anno porteremo come ogni anno, questo consegneremo al prete, al padre calabrese, le chiave della città, a Dio di noi, ci affidiamo alle mani della Chiesa. Al termine della Messa Solenne è iniziata la processione fino al fiume Calagni, dove il sacerdote ha recitato la preghiera di San Sebastiano e poi ha avuto inizio la questua. I fedeli vestiti di bianco e a piedi scalzi hanno portato sulle spalle il pesante fercolo per le vie del paese, per poi riporlo nella chiesa di San Nicolò, da dove verrà ripreso domenica prossima, nel giorno dell'ottava.